Bella a tutti ragazzi per questo nuovissimo video che è il vostro X-Breeze Oggi parliamo delle due partite Una bellissima e una non tanto Quella tra Berettini e Davidi Cifochina E tra Sonico e Fucciovic Intanto, prima di iniziare Stanno usci le orecchie Permite lasciare un bel like al video, commentatevi, iscrivetevi Siamo stati in live fino a adesso a guardare Berettini insieme Quindi ringrazio chiunque sia stato con me in live Ricordo che sotto il link in descrizione C'è il mio Instagram Dico quando vado in live, dico quando faccio i video Quando li carico eccetera eccetera Quindi prima di sempre aggiornati, Instagram sotto Iniziamo subito Allora, partiamo dalla sorpresa Sonico contro Fucciovic Sonico era sfavorito, partiva molto sfavorito contro Fucciovic Con Fucciovic Comunque, vincitore di due titoli due giorni fa Mi va a Montegarlo Comunque, un po' di stanchezza ce la vogliamo mettere Però devo dire che oggi ho giocato molto molto bene L'ungherese non è un tennista molto forte Secondo me, secondo il mio pensiero su Terra Rossa Però ha giocato molto bene Fucciovic Devo dire che Sonico invece ci ha stupito Ci ha stupito perché Non sembrava veramente stanco Quindi, buono Tutta la stanchezza La cosa si è riversata poi nella vittoria dei due titoli E è andato a Montegarlo veramente scarico di tutto E anche della stanchezza Pieno solo di adrenalina Per vincere un altro trofeo Ma ora, speriamo che vinca Montegarlo Chi lo sa Però nel senso Sonico Grandissimo Non vorrei tanto parlare di Sonico Perché la partita l'ho vista molto a sprazzi quella di Sonico L'ho seguita con voi in live anche Ma stiamo seguendo soprattutto Berrettini Perché è la partita che mi interessava molto Matteo Berrettini Dopo comunque Vabbè, il doppio in Sardegna Torna Ufficialmente in un ATP Proprio in un Master 1000 Ma proprio De quelli potenti Qui contro David Lynch e Fokina Le quote erano molto strane Davano a 1,8 Berrettini E a 1,7 Fokina Quindi Già si sapeva che Berrettini Aveva qualche problema Tutti Tutti Nei forum Dicono Oh, giochiamoci Berrettini Ho un regalo a 1,8 Dai, sì Io ho detto Ragazzi State attenti Perché Non è che i Bucks sono così stupidi Che danno Un top 10 A 1,80 Contro Fokina Su Terra Rossa Che ovviamente Su Terra Rossa Magari Fokina Magari è un Pelino più pratico Rispetto a Berrettini Ma è comunque Berrettini Quindi state attenti No, no Non vi preoccupate Oh, è come gioco Berrettini Fine del secondo set Oh, Berrettini è un clown È un coglione Ed è qua e là Questa è la solita Gente che non capisce Il tennis Che non lo segue Che non sa le dinamiche Che porca troia Berrettini è stato assente Due mesi quasi Problema All'addome Non ha giocato nemmeno Con l'Australia Nupen Era pure qualificato Vabbè Ha passato il turno Secondo te perché Passa il turno E poi non va A giocare contro il prossimo avversario All'Australia Nupen Perché è stupido No, cazzo State col cervello Si è fatto male In Sardegna Ha fatto il doppio Non ha giocato un singolo Ha servito molto bene Ma la maggior parte Nel doppio Ci è servito a vicenda Quindi non è che ha fatto tutto Berrettini Oggi Berrettini I primi game Ha giocato secondo me bene È entrato bene in campo E serveva molto molto bene Molte prime Poi ha iniziato A uno servire male Ovviamente molto discontinuo Nel servizio Soprattutto poi ha iniziato A giocata fermo Rega Sbracciava e basta Quindi col dritto E rovesci Se stai fermo Va bene quanto deve fare Ma vanno tutti out Vanno Non riusciva Non aveva Non aveva quel gioco di gambe Che magari prima ce l'aveva Grazie al cazzo ragazzi Berrettini Prima di sto torneo Ha fatto delle dichiarazioni Io vado a Monte Carlo Per vedere come sto Il mio stato fisico Non mi basta ovviamente Il doppio Per vedere come sto Mi serve un singolo Fatto bene E Foghina oggi Comunque dall'altra parte Ha giocato molto bene Ha fatto molti errori Anche Foghina Vabbè Se parliamo di errori non forzati Berrettini ne ha fatti molti di più Ma Foghina Non è stato da meno Ok Quindi magari un altro Tennista al posto di Berrettini Avrebbe battuto Foghina Questo che voglio intendere Però devo dire che Lo spagnolo Anche al servizio Ha tenuto Anche se Berrettini Magari ogni risposta La buttava out Però diciamo che Foghina Ha tenuto bene Devo fare i complimenti Anche a Foghina Ok Io sono molto sportivo Con tutti quanti Quindi Berrettini ragazzi Bisogna tagli tempo Per ripiarsi Foghini Che perdeva ogni partita Per esempio L'anno scorso Ma arriva Ha vinto oggi Qua ha vinto E tu ti dici Ma come cazzo ha fatto a vincere Tagli tempo Tagli tempo Che si ripiglia Magari Torna più forte Santo Padre pure Veniva sempre ripreso Quando Nei momenti morti Della partita Già stava più a punti Per dire Ok Manca questo Manca questo Bisogna riprendere questo 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 E questo Quindi Dammogli tempo A sto ragazzo Domani ragazzi Sarà ovviamente La live Djokovic Sinner Imperdibile Non vado a perdere Quindi Sotto Instagram In descrizione Perché vi dico Quando vado in live E non perdetevela Perché veramente Facciamo i botti Domani con Sinner E Djokovic Sta giocando anche Ragazzi Travaglia Caregno Busta Travaglia Ha perso Primo 7 7 5 Il secondo Sta a 2 pari 30 pari Servizio Travaglia Quindi vabbè Diciamo che Travaglia È un po' Travagliata la cosa Contro Contro Caregno Busta Che è un grandissimo Campione su Terra rossa Vabbè raga Ci sta Comunque Dal vostro XB2 Lascio un like Commentate Iscrivetevi Un bacione Ci vediamo In un prossimo video Grazie a tutti